Amiche amici belli, ma certo che vi saluto, vi faccio gli auguri anche questa mattina, è Natale da tanti giorni, quasi, ora è nato, è nato il Salvatore, è nato il nostro Gesù Bambino, quindi impegniamoci a fare i bravi, eh, amica è già passata, c'è da impegnarsi, buongiorno, buongiorno, è quasi mezzogiorno, anzi è passato mezzogiorno e qui siamo ancora, caro amico, eh, stiamo, camicia da notte, causette, golfino, ciabattine, Laminu si sta facendo la doccia, Laminu, Laminu, capite a me come sono messa? La mia bambina, la Camilla, e Laminu dorme, siamo andate a fare un giretto, mi hanno già fatto caca, vomitini e pipì, in casa, i miei animali sparsi, non lo so cosa hanno addosso, fra tutti, e io ho zompato su tutto, non mi sono ancora sfragnata, sfracellata per terra, ecco, quindi abbiamo dovuto pulire, fare, brigare, ora vado a fare un dolce, e poi si pranza, e poi si chiacchiera, ho aperto il primo pacchetto, poi gli altri li apriremo nel pomeriggio, quando saremo di più, e nel mio pacchettino, sapete cosa ho trovato? Delle causette, ma che carine, dove le ho messe? Ora ve le faccio vedere, la mia bambina mi ha regalato, come primo regalino di Natale, ora sposto la tazzina, e ci sono un po' di briciole, abbiamo sbattuto un po' la tovaglia, ma sapete, abbiamo fatto colazione, siamo un po' delle zozze, guardate che belle causette che mi ha trovato su una bancarella, la mia bimba bella, non è già carina così, lei me la tengo, guardate che carine, io sono contenta, questo è il Natale di causette, io sono felice, mi sono arrivate quelle belle rosse, sai che mia foto è la Steffi, e me le metto, me le metto oggi, domani mi metto queste, ho detto che mettevo le causette rosse, poi mi sono arrivati dei calzoni di lana, solo mia figlia riesce a trovarli così belli, e quindi poi ve li faccio vedere, ma un colore burgundy, bellissimo, quindi ho le volpine, ho i cuoricini, ho le causette, guardate che belle poi tra l'altro, come mischia, abbiamo un 80% lana, for woman, poi non vedremo più scritte più di lano, per fragoline, per i rametti, per le tazzine, come volete, tu cosa sei, io sono una tazza, ah che bello, è guai a contraddire, e tu cosa sei, io sono una briciola, ma dai, pensa un po', chissà che figli farà i panini, i pagnottelli, non si sa, che brutto, che periodo, meno male che almeno già quasi a 60% ci sono arrivata, non mi tocca vedere l'evoluzione, perché se può, quindi sono 80%, intanto ce la metto, la nota pesante, allora, 80% lana, 15% cotone, cotone, e 5% è la stanza, vedete un po', prodotto importato, ma beh, comunque, non è made in Italy pazienza, ce ne faremo una ragione, beh, comunque, guardate un po' che bello, ma che bello, ma sono tre felice io, sono tre, poi il blu, che mia figlia sa che mi piace il blu, e poi vi faccio vedere un pezzettino del mio calzone con culis in vita, color burgundi, la tasca tagliata, ma guardate un po' che bel modello che mi ha trovato, e io oggi mi vesto così, e ho un golf perfetto, ho un bellissimo golf perfetto, io quindi oggi starò con il calzone burgundi, quando mi toccherà lavare, quando toccherà a me il bagno, perché in questa casa uno ne abbiamo, come nelle case una volta, un bagno era già di grazia avercelo, sono nata in una casa dove il bagno era in un cortiletto, capirate un po', chiuso per fortuna, della mia nonna, eh, io poi ho abitato in una casa con il cessetto sul poggiolo, eh, ah, ma sono mica cose da dimenticare, e non sono neanche cose delle quali vergognarsi, me lo ricordo quando si faceva il bagno una volta alla settimana, eh sì, no, non raccontiamo, una volta il bagno si faceva il sabato o la domenica mattina, c'era il vestitino della festa, e poi ti lavavi a pezzi, a pezzi con l'acqua fresca, perché ad esempio nella cucina dove ho trascorso la mia primissima infanzia, in quell'ultimo, in quell'appartamentino con vista spettacolare, io quello, io quello che sono grata al Signore che mi ha dato la capacità di bearmi del bello, del paesaggio sin da piccola, e quindi io trascorrevo il mio tempo così spesso anche a guardare fuori dalla finestra della mia stanza, che era la stanza di noi bambini, era la stanza di mezzo, questo mini appartamento, su un quinto piano rialzato, quindi avevamo i tetti, poi c'erano i cortili, dentro i cortili c'era un'altra casa, no, ma vabbè, queste case di quartiere belle, io ho amato vivere a Pegazzano, che è un quartiere della città di La Spezza, e quindi in quella stanzetta, è nella nostra stanza che veniva fatto l'albero di Natale, mica in cucina, e quindi in quella cucina, quel poggiolo quasi, chiamano terrazzo, era piccino, già mi sembrava piccolo quando eravamo bambinino, giusto lo spazio per uscire ed entrare nel cessetto, nel gabinetto con l'avellino piccino per le mani, poi avevamo quei bidet, quei cattini a forma di bidet che andavano posati sul vattere, ci si lavava così, e poi la tinozza in cucina, il rito delle pentole sul fuoco, perché non c'era lo scaldabagno, bambini, io non so, mica nata nel 1800, sono casse nel 1963, quanto era passato dalla guerra, non erano tante le case con i bambini, ce ne aveva giusto, giusto, la bisnonna, e a volte andavamo a farci, dove vai, vado a fare il bagno della bisnonna, che aveva una mezza vasca, a noi ci sembrava già, che avevamo la tinozza di zinco, anche la mia nonna, e poi ti lavavi con le pezze, le pezze sono quelle manopole che ti strusciavi, eravamo più puliti, oh che ridere, qui abbiamo il bagno che ha una mezza vaschetta e la doccia, la doccia non la possiamo usare perché gli scarichi sono da cambiare, quel bagno è stato ristrutturato, è fatto, è stato fatto proprio fino agli anni 50, inizio agli anni 60, ma è più ristrutturato, quindi abbiamo visto che purtroppo ci sono delle perdite, e quindi ci facciamo la doccia dentro alla vaschetta, quella che di solito usavo per minù, e basta, e per lavare gli stracci, poi lo scarico della lavatrice, vabbè, mi diverte partecipare a queste nostre quotidianità. Ah, e poi vi racconto della colazione, allora, per colazione abbiamo mangiato un pandoro, non gluten free, fatto al panificio meraviglioso di Vitorchiano, che c'è il nostro vicino di casa, che ci darà una mano col gatto, questi giorni di spostamenti avanti a andare, poi vabbè, tanto lo familiarizza, e quindi abbiamo mangiato il pandorino che ci ha regalato il nostro vicino, soffice, bello giallo, che non aveva il profumo del burro, non sapeva di grassi, a me piace il grasso del burro, ma soffice, 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 buono, 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 e poi solo frutta. Noi siamo state brave, lige, proprio con intenti salutari, abbiamo salutato il Natale, questa frutta qua, guardate, oh, è frutta, ma che buona, questa frutta candita, glassata, aromatizzata, con la cannella, con lo zuccherino, lo zuccherino è buono, quando ci vuole, ci vuole, e quindi buon Natale. Poi abbiamo sfogliato, guardate, ci sono dei capi interessanti, certo che sì, ma magari la chiacchiera poi ve la farò, ve la farò, ho consegnato un pacchettino solo, quindi il pacchettino che ho consegnato a Camilla era con la falsetta, eccola qua, e quindi che bello, buon Natale, spero che siete tutti bene, io so che buona parte purtroppo è a letto malata, malata, influenzata, la Steffi, forza forza, e anche Maurino, dateci dentro, guarite, mandate via il, sarà un virus, sarà un malannino, la ciacchino, ecco, scacciamo la ciacchino, buon Natale, buon Natale, a presto un'altra chiacchiera, a presto, in serata, più tardi, pomeriggio, chissà, prima o poi arriverà.